Io e Dagras ci siamo conosciuti circa 20 anni fa a scuola, abbiamo frequentato un corso per quattro anni a Milano. Abbiamo costruito insieme un portfolio che era caratterizzato sostanzialmente da una tecnica, quella della luce pennellata. Si lavorava con un banco ottico 20-25 in Polaroid e da lì abbiamo iniziato a creare un book che abbiamo portato in giro presentandolo ai nostri primi clienti. Scattavamo spesso in esterna di notte, illuminare soggetti ambientati, location molto ampie, usavamo un sacco di luci e in due ci si aiutava veramente tantissimo. Passati poi a digitale, sulla post-produzione, la nostra sensibilità in qualche modo si unisce nel cercare di trovare lo scatto che più rappresenta le nostre idee di ritratto. Se questa collaborazione è nata è stata perché c'era anche una certa affinità artistica. Il fatto che ci siano effettivamente due visioni, che per quanto vicine e in simbiosi sono comunque due visioni, questo aiuta perché riusciamo ad ottenere due risultati contemporaneamente. Il ritratto per noi è sempre stato concepito più che nel rubare l'anima alla persona e nel fare incontrare la sua anima attraverso il ritratto tra il soggetto e noi. E quindi in realtà il ritratto è proprio l'incontro tra l'anima del fotografo e quella del soggetto, molto più che solo quella del soggetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.